Un programma in collaborazione con... Un saluto ai telespettatori di Canale 85, Antenna Sud sul Canale 13, Antenna Sud Live sul Canale 90 e a quanti ci seguono sui social e sui settimanali lo Ionio e l'Adriatico. La rubrica l'intervista della settimana che fa il giro della Puglia torna a Taranto e abbiamo come ospite il sindaco, il primo cittadino della città bimare, Rinaldo Melucci. Bentrovato sindaco. Buongiorno direttore, grazie a voi per l'invito. Un appuntamento importante alla vigilia ormai delle elezioni regionali e quindi non possiamo non partire da questo aspetto. Il comune di Taranto, la regione, il governo e gli altri enti hanno messo in campo negli ultimi mesi una totale sinergia che starebbe dando frutti importanti per la città. A partire, ecco, ieri il sopralluogo per l'ospedale San Cataldo, un avvenimento importante, medicina che sta per partire e che poi troverà la sua location proprio nel nuovo policlinico di Taranto. Ecco, come potrà incidere il sindaco il voto delle regionali su tutto questo impegno messo in campo? Ma guardate, è evidente che da qualche anno la regione Puglia in generale è diventata un po' una locomotiva dell'economia del mezzogiorno. Adesso Taranto sta agganciando questo trend. Finalmente c'è, come diceva lei, una sintonia istituzionale che mancava da tanto tempo. A tutti i livelli, posso iniziare da Bruxelles, ma sicuramente il governo, la regione Puglia, gli enti locali. È chiaro che noi ci auspichiamo che ci sia continuità amministrativa sulle grandi scelte, i cantieri, le iniziative che si stanno mettendo in campo per il futuro di Taranto. Piena sinergia, ma non appiattimento. Lei ha sottolineato più volte che il comune di Taranto su alcune vicende rivendica una piena autonomia. Il caso della vicenda Ex Silva e Arsero Mittal. Beh, penso che l'abbiamo dimostrato con i fatti, con il nostro operato in questi anni. Noi facciamo gli interessi dei cittadini di Taranto. Se questo significa a volte confrontarsi anche in maniera ruvida sui tavoli istituzionali con gli altri interlocutori, lo facciamo volentieri negli interessi dei cittadini. Però devo dire veramente che è un momento abbastanza positivo perché, per esempio, sulle vicende della grande industria, dell'ambiente, dell'occupazione, oggi la pensiamo quasi tutti alla stessa maniera. Quindi, come dire, spero che il negoziato ILVA possa procedere nelle prossime settimane in questa direzione che tutti invocano ormai. Giochi del Mediterraneo, a che punto è la macchina organizzativa? Beh, come sapete noi abbiamo insediato il Comitato Mediterraneo, come si chiama per abitudine il Comitato Organizzatore di questo evento. Siamo partiti, insieme alla collaborazione con l'Agenzia regionale Asset, nel compiere i sopralluoghi nei quasi 20 comuni che faranno parte del network dei giochi e che ospiteranno impianti di gara e di allenamento. Al termine di questi sopralluoghi comporremo il piano economico da proporre al Governo, che dovrà garantire, abbiamo parlato anche con il Ministro per la questione di recente, le coperture finanziarie annunciate, e realizzare quello che si chiama il Master Plan, un po' dei giochi, quindi tutto il calendario e l'atterraggio dei vari cantieri. Presumo che questi cantieri, a partire dalle primissime settimane del 2021, inizieranno a essere operativi. Ecco, c'è anche un altro traguardo per Taranto, quello di città capitale della cultura. Ecco, non teme che avendo Taranto ricevuto l'importante e prestigiosa segnazione dei giochi del Mediterraneo possa, nonostante abbia messo in campo un progetto interessante con la Grecia serentina, essere, come dire, per equilibri, ecco, se non penalizzata, come dire... Ma guardi, io penso che Taranto ha ancora un credito molto largo con questo Paese, diciamola così. Poi, come ha anche sottolineato il Ministro Franceschini, che è responsabile del procedimento, bisogna fare un bel dossier, fare una bella proposta, con alcuni criteri specifici, e noi crediamo di averla fatta, di aver raggiunto tutti gli obiettivi che il Ministero si dà con questo tipo di evento. Fatemi dire che, insomma, ce la giochiamo con grande convinzione. È uno dei test che abbiamo da qui al 2026 per misurare anche la nostra capacità di trasformare il nostro tessuto economico, culturale, sociale. E, dopodiché, se per qualche, come dice lei, equilibrio strano, non dovessimo risultare i vincitori della capitale della cultura, noi comunque abbiamo già promesso ai nostri cittadini che il 2022 lo faremo in grande stile, anche dal punto di vista degli eventi. Ecco, in città si vedono all'opera diversi cantieri, ci sono anche, come dire, dei disagi inevitabili. Ecco, però, dopo tanto tempo i cantieri sono attivi. Partiamo dal piano strade, a che punto siamo? Ma, guardate, i cittadini lo sanno, ci vuole un po' di pazienza, diceva Edoardo, da passata nottata. Per farsi belli, per trasformare la mobilità, per trasformare anche le opportunità economiche, la qualità della vita dei cittadini, bisogna passare attraverso delle strettoie un po' dolorose, che sono quelle dei cantieri, quelle della riorganizzazione, faccio per dire la raccolta differenziata. Piano strade, noi siamo una città con centinaia di chilometri di tracciato stradale, forse la gente non lo sa, e con un primo lotto di lavori copriremo già un 30% di queste strade che non erano da tanto tempo state prese in considerazione. Noi abbiamo preferito non tappare la buca della strada sotto la casa dell'amico, del vicino, ma fare un grande piano organico. Partiremo in ottuno con un secondo lotto finanziato per altri 4 milioni, per coprire un altro 30% di strade. E insomma contiamo entro la fine del mandato di questa amministrazione di aver messo mano alle strade di tutta la città, che è un'operazione che probabilmente non è mai stata compiuta e che chiaramente sconta anche alcuni interventi non del Comune. Voi sapete c'è la posa della fibra in queste settimane, ci sono interventi anche della società dell'elettricità, dell'Enel, che vengono imposti con contratti nazionali e non possiamo, come dire, raccontare ai nostri giovani, alle nostre imprese che non posiamo la fibra per non avere un paio di mesi di disagio sull'asfalto. Ecco, Taranto, città green, il piano verde è partito e i frutti si vedranno strada facendo. Sì, noi abbiamo avuto un po' di affanno e di ritardo per via del coronavirus, come tutte le città, come tutte le comunità, abbiamo avuto, come dire, una partenza un po' in salita, però anche qui per la prima volta abbiamo preferito creare una grande gara europea, noi abbiamo fino a 18 squadre che ruotano sul territorio comunale, in tutti i quartieri e ci stiamo prendendo cura in maniera più sistematica, più scientifica di tutto il nostro verde. A regime, man mano che le piantumazioni verranno rinfoltite e, come dire, le squadre ruoteranno per la città, io credo che, come dire, avremo dei risultati veramente molto positivi, d'altronde qualcosa già iniziamo ad apprezzarla. E poi, fatemi dire, abbiamo anche questa idea della green belt, se riusciamo con il governo, con il tavolo del CIS, a quadrare sulle coperture finanziarie, vogliamo realizzare questa grande cintura verde intorno alla città, diradare un po' gli spazi urbani ed elevare la qualità della vita dei cittadini a partire dal quartiere Tamburi, dove, come sapete, sorgerà la foresta urbana. Raccorta differenziata, come sta rispondendo la gente? Anche qui siamo partiti, devo dire, molto bene. Sopra ogni aspettativa i quartieri, anche periferici, hanno risposto alla grande, qualcuno non ci scommetteva. Poi è arrivato il coronavirus, il lockdown, che ci ha fatto un attimino smarrire. Ci sono delle difficoltà, come tutti i test in partenza, che vanno risolte, affrontate nel corso dei prossimi mesi, ma entro gennaio contiamo di completare, come dire, la raccolta differenziata integrale su tutto il territorio comunale. Ci serve la collaborazione dei cittadini, ovviamente, perché se noi rispettiamo gli orari e i giorni di conferimento o le modalità previste dalla nostra società partecipata, le difficoltà aumentano. Ma anche qui sono fiducioso. Come in tutti i luoghi del mondo, il primo anno è un anno di tribolazione, poi si va a regime e il decoro diventa un'opportunità per tutti, per i negozianti, gli esercenti, le imprese, i giovani studenti e anche i residenti. Ecco, l'altra grande scommessa è la riqualificazione urbana per il borgo, il palazzo degli uffici e la città vecchia, soprattutto la città vecchia con l'operazione Casio e un euro, ma non solo la riqualificazione di importanti palazzi storici. Vedete, noi abbiamo lavorato i primi due anni di questa amministrazione per mettere in sicurezza finanziamenti e programmi. Qualcuno oggi scherza e dice che sono solo le elezioni che fanno smuovere i cantieri. Non è così, è tutto frutto di una programmazione calcolata in questi ultimi due o tre anni e adesso, come vedete, stiamo licenziando un cantiere e una consegna quasi ogni settimana, dalla biblioteca Clavio al campo scuola, alla palestra Ricciardi, al parcheggio artiglieria. L'autunno sarà costellato di inaugurazioni e entro l'anno contiamo di far partire anche l'accordo di programma sul quartiere Tamburi, che quindi cambierà il volto di questo quartiere finalmente, e contiamo di far partire anche il master plan della città vecchia, insomma, con i palazzi storici e tutto quello che si è operato all'interno della delibera Cipe 10-2018, quella da 90 milioni. Quindi io reputo che da qui a due anni, ripeto, con un po' di pazienza, tutto il centro storico di Taranto avrà cambiato completamente volto e questo impatterà sull'economia sicuramente del territorio. Ecco, alla base della rinascita di Taranto c'è la necessità di una rivoluzione culturale e sulla cultura il Comune intende investire ulteriormente? Beh, fatemi dire, noi in questi giorni abbiamo lanciato questo progetto per la street art, vogliamo portare il bello anche nelle periferie, perché il bello chiama bello e chiama la cultura, e la cultura chiama poi iniziativa di impresa. Come sapete, anche nelle nostre misure che abbiamo varato a maggio per contrastare il coronavirus e per la ripartenza del capoluogo, abbiamo stanziato somme importanti, per esempio per le start-up giovanili, per il bonus mecenate. Insomma, io credo che per la prima volta Taranto con la cultura, dopo tanto tempo, sta facendo veramente le cose sul serio e sono convinto che dal cambio di paradigma viene, come dire, la partita più importante, quella da giocare per questa città. Perché noi possiamo fare tante infrastrutture, introdurre tanti servizi, se i nostri giovani non restano qui a studiare, non si formano, non investono qui, il futuro diventa comunque complicato. Ecco, siamo alla vigilia, sindaco dell'apertura delle scuole, e a che punto è la situazione, le famiglie possono stare tranquille? Ma io direi sì, con un po' di cauto ottimismo, perché questa pandemia è sempre imprevedibile, anche i decreti del governo che si susseguono a volte introducono novità in corsa, però devo dire che già da tre mesi, con tutti i dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale, che lo ricordo sono le elementari e le medie, non tutte quante, stiamo lavorando con i responsabili della sicurezza dei vari istituti scolastici su 31 diversi cantieri, per mettere in sicurezza, rendere fruibili con le norme del Ministero, le aule e la ripartenza. Non abbiamo oggi segnali preoccupanti da nessun istituto, abbiamo messo mano davvero a tutte le richieste che c'erano arrivate, poi come sapete abbiamo anche varato una convenzione molto importante, nel mese di agosto, che vale quasi un milione di euro, per implementare tutta la strumentazione tecnologica, anche degli edifici scolastici. Io credo che, come dire, di Taranto e della scuola di Taranto, come già sta avvenendo, si parlerà positivamente nelle prossime settimane. Dopodiché tutti insieme monitoriamo insomma quello che accade con il virus. Ecco, il sindaco Lini è anche un addetto ai lavori, la portualità resta l'asse molto, forse il più importante, per la diversificazione produttiva. Salutiamo intanto l'ingresso del nuovo comandante della Capitaneria di Porto e in questi giorni si stanno registrando importanti avvenimenti all'interno del Porto. Quindi cosa ci può dire sul Porto di Taranto e sui futuri insediamenti? Guardate, noi siamo relativamente sereni perché abbiamo un ottimo rapporto con l'autorità di gestione portuale del Marionio e sappiamo che stanno facendo un grande lavoro anche loro per far ripartire tutta l'infrastruttura. Abbiamo bisogno di capire ancora alcune cose, perché per esempio abbiamo chiesto al Presidente Prete, e lui molto celermente si è adoperato, di capire le banchine per esempio in uso all'industria, con quale indice di utilizzo oggi viaggiano, perché ci sembra che alcuni spazi si possano recuperare agli interessi del capoluogo e delle imprese locali. E poi ci sembra che sarà doveroso nei prossimi giorni un momento di riflessione con il gruppo Ilport, che aveva annunciato un piano industriale che ancora non si materializza. Comprendiamo le difficoltà del coronavirus, ma siamo altrettanto preoccupati per la sorte dei lavoratori, dei tanti lavoratori che aspettano risposte sul loro futuro. Insomma, sul Porto, volenti o non volenti, anche perché siamo un po' formati, non ci aspettiamo risposte molto puntuali da chi in qualche maniera farà da driver di questo sviluppo. Però anche qui, vedendo un po' le crociere che crescono, gli eventi che stanno nascendo anche intorno all'economia del mare, conserviamo tanto ottimismo e sicuramente monitoriamo lo sviluppo, specie del terminal container. Ecco, il 20 e il 21 tutti alle urne il referendum. Come voterà il sindaco Menucci sulla vicenda del taglio dei parlamentari? Ma guardate, il partito al quale mi onoro di appartenere a patto di avviare una riforma elettorale ha preso coscienza, ha sposato una posizione che è quella del sì. Io credo, peraltro, che ora tanti illustri costituzionalisti ci mettono in guardia dal taglio sconsiderato di seggi e questo io lo capisco e lo approvo. Però qualcuno mi ricorda che negli anni 50-60 avevamo un numero inferiore di parlamentari e non c'era alcun attentato alla Costituzione. Bisogna fare le cose per bene, bisogna mantenere gli impegni che il governo ha annunciato sulla riforma elettorale, però io seguirò le indicazioni del partito e credo che a questo giro si possa votare sì. Ecco, volevo chiederle, Sindaco, un'altra cosa. È il Mar Piccolo, c'è il cambio per quanto riguarda il commissario per le bonifiche. Ecco, l'altra importante scommessa per Taranto è il Mar Piccolo e tutto quello che potrà dare questa grande risorsa. Ma vedete, io credo che il tempo delle scommesse sia finito. Noi ormai, come diceva lei nel prologo, ci stiamo adoperando perché tutti i cantieri, tutti i progetti, le promesse, compresa quella dell'ospedale San Cataldo, possono diventare presto realtà, non siamo più nel campo delle scommesse. Io non abbiamo ancora avuto modo, spero di salutare presto l'insediamento del nuovo commissario. A lui chiederemo molta concretezza, molta velocità, perché le bonifiche hanno bisogno di una grande scossa. Chiederemo coinvolgimento e trasparenza, perché qualcosa da questo punto di vista, forse in passato l'abbiamo sbagliata. E soprattutto mi aspetto che intorno al tema delle bonifiche le ricadute finalmente per il nostro sistema di imprese, il nostro territorio, siano significative. Il momento, come dire, della programmazione, della visione, della scommessa, che pure era necessario, è terminato da un pezzo. La città sta viaggiando a una velocità importante e anche le bonifiche devono acquisire questo passo. Consentetemi un cenno a una vicenda a mecare, il fiume Galiso, dove ho trascorso la mia fanciullezza. Sono stato domenica a partecipare con un'associazione per la raccolta dei rifiuti. Lì c'è la competenza, credo, della provincia di Tarla. Ecco, però, un luogo così importante, che proprio si collega al Mar Piccolo, che alimenta il Mar Piccolo con i Cidri, mi ha fatto impressione. Io credo che questo fiume cantato da Virgilio, da Orazio, tutta quell'area possa essere recuperata ed essere un emblema per Tarla, non crede? Noi stiamo dando collaborazione a tutti gli enti. Stiamo in conferenze di servizi con la Marina Militare, per esempio, per recuperare altre aree importanti. Stiamo dando sulle scuole una mano all'ente provinciale, col quale lavoriamo molto bene. Di sicuro la norma non ci consente di intervenire sempre, dovunque ci piacerebbe intervenire, al di là delle risorse, al di là dell'organizzazione, perché è chiaro che la competenza giuridica pesa di fronte al fatto che quando fai anche una bonifica leggera rinvieni materiali classificati, rinvieni tante cose. Però siamo a disposizione. L'auspicio è che magari, insieme alla provincia, insieme al nuovo commissario, per esempio intorno al progetto di Verde Amico, degli ex operatori di Isola Verde, si possa fare un ragionamento nuovo, ridare slancio a queste bonifiche leggere e sicuramente il Galeso non può che essere in cima alla lista delle nostre attenzioni. Per chiudere, sindaco, la gestione del coronavirus, ecco Taranto, tra le città, diciamo, che a livello nazionale, ha registrato, ecco, al di là di ultimi casi, non propriamente del capoluogo, ma in provincia, quindi la fase post-covid, come la sta gestendo? Intanto è stata una sorpresa, evidentemente abbiamo lavorato bene sia sul contenimento della pandemia che sul marketing territoriale, è stata una sorpresa vedere il tutto esorito quest'estate sulle nostre spiagge, nei nostri bed and breakfast, nei nostri alberghi. Bisogna lavorare con molta cura e gli eventi li stiamo organizzando con grande fatica, però abbiamo voluto comunque garantire vivacità alla nostra comunità in quest'estate così particolare. Io credo che se siamo bravi e come assoluto rispettiamo le regole, quindi evitiamo l'assembramento, utilizziamo la mascherina nei luoghi e negli orari previsti dal governo, ci laviamo spesso le mani, possiamo vincere questa battaglia, ci sarà ancora qualche settimana di tensione, di attenzione, di prescrizioni, ma questa battaglia la possiamo vincere, non ci possiamo permettere un altro lockdown, questa città sta ripartendo nonostante l'ILVA, nonostante il coronavirus, nonostante tutto e noi dobbiamo proteggere e accompagnare questa rinascita. Prudenza quindi, ringraziamo i telespettatori di Canale 85, Antenna Sud, Antenna Sud Live e quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali, lo Ionio e l'Adriatico e ringraziamo in particolare il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.